Parte un'ulteriore sfida sul territorio di San Demetrio Corone, dove dopo il precedente appalto l'azienda Ecorossa è risultata giudicataria del successivo bando di gara per la gestione del servizio di igiene urbana. Superati i rallentamenti causati dall'emergenza sanitaria in atto, si dà il via ad un nuovo allestimento del cantiere, che comprende ulteriori investimenti, nuove forniture di attrezzature per gli utenti e servizi migliorativi. Prossima la presentazione ufficiale alla stampa del progetto, mentre nei giorni scorsi l'azienda ha consegnato e installato nuovi ecobox per la carta e il multimateriale all'interno del municipio, per poi proseguire in tutti gli uffici pubblici presenti sul territorio comunale. Da oggi primo step, insomma partono le prime attività di allestimento del cantiere a seguito della nuova giudicazione appunto della procedura aperta. Premesso che siamo sul territorio di San Demetrio, siamo presenti da metà gennaio del 2016, quando all'epoca appunto risultammo già giudicatari della gara d'appalto. E quindi una presenza che ha fatto sì che in questi anni abbiamo consolidato un ottimo rapporto con la cittadinanza, con il territorio, quindi un'ottima sinergia che ha fatto sì che gli stessi numeri sono notevolmente cresciuti. Infatti se passare da percentuali medie del 59-60% a superiori al 65% degli ultimi due anni. Quindi possiamo affermare che il territorio e la comunità ha risposto benissimo agli stimoli già del servizio migliorato. Il sindaco Salvatore Lamirata si dice soddisfatto del servizio e orgoglioso dei risultati raggiunti dalla propria comunità, che qualche anno fa ha conquistato anche la menzione speciale di Comune Virtuoso nell'ambito del report sui comuni ricicloni di legambiente. La gestione attuale del servizio di raccolta dei rifiuti ha cambiato volta il paese. Perché il fatto di fare un servizio porta a porta, differenziato, si è tradotto in un guadagno di qualità ambientale, ma anche di grande qualità del servizio, perché dobbiamo riconoscere alla ditta Ecoros l'alta professionalità con la quale garantisce quotidianamente il servizio in tutto il territorio comunale. Io credo che questo debba essere un impegno di ogni amministrazione pubblica, perché sappiamo che bisogna puntare sull'ambiente, se ne parla sempre, però parlare dell'ambiente significa poi essere presenti, intervenire, cioè dimostrare di aver attivato gli strumenti giusti per poi poter garantire la qualità dell'ambiente. È un ambito, un tipo di problema che si può risolvere solo se si affronta con molta serietà e professionalità. In continuità con gli anni precedenti, che hanno fatto registrare percentuali sempre crescenti di raccolta differenziata, nonostante le criticità legate ai deficit nell'impiantistica regionale che hanno determinato situazioni diffuse di emergenza rifiuti, l'obiettivo è quello di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi. Il puntare sull'ambiente non può avere un limite temporale, ma anche di programmazione e di interventi. Anche da questo punto di vista la dita Ecoros si sta dimostrando all'avanguardia, e credo che possa essere un esempio per l'intera realtà imprenditoriale calabrese, ma forse anche oltre, per l'elevato grado di professionalità, ma anche per la sensibilità che mostra verso il problema e per l'attività che svolge per la sensibilizzazione. Perché diciamo che è vero, può essere brava l'amministrazione, può essere brava la ditta, ma se non c'è la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, del cittadino, non si possono conseguire grandi risultati. E quindi l'attività che sta svolgendo l'Ecoros in modo innovativo, con i video sulle modalità di raccolta differenziata, sull'attività di sensibilizzazione, sull'adesione a iniziative anche locali, di raccolta di bonifiche da parte di associazioni di volontariato, dimostra come questo aspetto di sensibilizzazione si riveli veramente l'arma vingente, perché noi dobbiamo cercare di puntare ad educare il cittadino che ancora non ha ben compreso il contributo che può dare per risolvere il problema ambientale, per contribuire alla qualità ambientale. Il nuovo servizio, i cui dettagli saranno prossimamente illustrati alla stampa nel corso di un evento DOC, prevede ulteriori attività e innovazioni, al fine di migliorare il decoro urbano anche attraverso una continua attività di controllo e monitoraggio del territorio e incrementare i livelli qualitativi e quantitativi di raccolta differenziata. Da oggi parte una nuova sfida, quindi un nuovo allestimento, che prevede appunto la distribuzione di tutte le attrezzature nuove, sia per le utenze domestiche che commerciali. Contestualmente saranno avviate attività di informazione e sensibilizzazione su tutto il territorio comunale, a tutte le tipologie di utenze, dal mondo scolastico al mondo degli esercenti commerciali, liberi professionisti e quant'altro. C'è da dire che il contesto pandemico ha un attimino rallentato l'espletamento di queste attività, però se oggi siamo qua è una conferma che comunque le attività vanno avanti, proseguono, quindi cerchiamo di terminarle nel più breve tempo possibile, ragione per cui a breve faremo un incontro dedicato con la stampa in cui andiamo ad illustrare a tutti i cittadini di San Demetrio appunto le nuove modalità, nonché le nuove attrezzature, proprio per far sì che questa comunità già virtuosa possa propendere verso risultati ancora migliori e ancora più eccellenti.